e oggi uno dei top driver del team la proverà esclusiva per testare faremo il già conosciuto come druscione aspetta maestro prego maestro dopo di lei vedete risplendere nel bosco vedete il maestro che commenta in diretta il comportamento di questo nuovo mezzo mi è stato donato in esclusiva mi è stato donato in esclusiva Dritto per dritto, giù nel truscione. Vedete questa MAPEX come affronta questo pezzo di guidato tecnico? Grazie a tutti! Grazie a tutti!